Felipe Melo verticalmente, ancora Marchisius per un attimo si lascia scalcare dal pallone, però è molto rapido, attenzione a Treseghe, il cardolo dentro, la deviazione destro! Con la zona di Ume! E allora qui, non ci si ferma più, come ha calciato Pierluigi, la palla scuola, 301 si vede, erano convinti.